E andiamo ragazzi, godiamoci questa serata. Sarà una partita molto combattuta perché l'Atalanta è una signora squadra. Come il rigore di bacca la settimana scorsa, che Tiziano diceva che era rigore netto. Io che leggo i giornali, che ho letto gli inviati, non ho bisogno di replicare a quella testa di cavolfiore. 26 minuti di gioco, 0-0 tra Milano e Atalanta, non ci sono grandi emozioni. E poi Massimo dice, vedo Tiziano un po' moscino, sono gioventino, ma mi piace il carico, dai. È carico, ragazzi, io non posso mica raccontarvi quello che non c'è. Io sono carico in funzione di quello che vedo, di quello che fanno i miei prodi. Eh, non mi stanno assolutamente convincendo. Una squadra ostica come l'Atalanta, che adesso usufruisce un calcio d'angolo dalla destra. Palla dentro, allontanata da Kucca. Bellini, esterno a sinistro, sul fondo. Neanche un tiro in porta dopo 33 minuti di gioco. Neanche un tiro in porta dopo 33 minuti di gioco. Neanche un tiro in porta dopo 33 minuti di gioco. E allora? E non è bello. C'è l'Atalanta che sta dominando in questo momento a San Siro, Tiziano. Sì, assolutamente sì. Max Morales dalla destra, cross. Prova il tiro alto sopra la traversa. 16 minuti di gioco. E' coraggioso Mielovi, ce la vuol vincere questa partita. Non toglie un attaccante per un attaccante, ma toglie un centrocampista per mettere un attaccante. Rischioso, vediamo. Tiziano. Sì, beh, vedete che non è tanto il numero degli attaccanti quanto il gioco che si fa per gli attaccanti. Attenzione, l'Atalanta, Max Morales, diagonale sotto misura e Donnarumma risponde alla grande con una deviazione. Angolo Atalanta, protagonista il ragazzino. Il gigante bambino. Dicevo che non basta inserire un attaccante, bisogna... Un altro tiro sotto misura di Deron sul fondo. Donnarumma salva il Milan, questo è il titolo del nostro Wall, ragazzo di neanche 17 anni, protagonista in un momento in cui Milan sta letteralmente subendo l'assalto dell'Atalanta. Ci pensa lui, questo ragazzo giovane e giovane, di grande talento, a tenere a galle il Milan che altrimenti starebbe già affondando. Tiziano Depresso e calcio d'angolo per l'Atalanta, la combinazione potrebbe essere mortale. 47-20, angolo dalla destra per l'Atalanta. Cosa vuoi che vi racconti? Ah, ragazzi miei, valla dentro in area, chiudono i difensori del Milan. Onda, Bacca, Cerci, contropiede, dai, 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 dentro, 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 no, salta il portiere Cerci, la prova è diagonale, sull'esterna della rete, sull'esterna della rete. Finita. Eh sì, eh sì, eh sì. Finisce qua. Milan Atalanta 0-0. Tizzi? È una mia arte. Sei tanto su di morale? Sono deluso perché mi ero deluso di avere una squadra in grado di fare un salto di qualità. Invece, no. E andiamo, ragazzi, godiamoci questa serata. Sarà una partita molto combattuta perché l'Atalanta è una signora squadra. Attenzione, attenzione, Bacca, 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 Bacca. Tiro, ribattuto, Bacca, tiro, ribattuto. Dai, 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 dai. Come il rigore di Bacca settimana scorsa, eh? Che Tiziano diceva che era rigore netto. Io che leggo i giornali, che ho letto gli inviati, non ho bisogno di replicare a quella testa di cavofiore. 26 minuti di gioco, 0-0 tra Milano e Atalanta. Non ci sono grandi emozioni. E poi Massimo dice, vedo Tiziano un po' moscino. Sono gioventino, ma mi piace il carico, dai. Il carico, ragazzi, io non posso mica raccontarvi quello che non c'è. Io sono carico in funzione di quello che vedo, di quello che fanno i miei prodi. Eh! Non mi stanno assolutamente convincendo. Il gigante bambino. Dicevo che non basta inserire un attaccante, bisogna... Oh! Un altro tiro sotto misura. Di De Ronde sul fondo. Donnarumma salva il Milan. Questo è il titolo del nostro Wall, ragazzo di neanche 17 anni. protagonista in un momento in cui Milano sta letteralmente subendo l'assalto dell'Atalanta. Ci pensa lui, questo ragazzo giovane e giovane. Di grande talento. Di grande talento a tenere a galle il Milan che altrimenti starebbe già affondando. Tiziano De... Dalla destra, cross. Prova il tiro alto sopra la traversa. 16 minuti di gioco. De Ronde. È coraggioso Mielovi, ce la vuol vincere questa partita. Non toglie un attaccante con un attaccante, ma toglie un centrocampista per mettere un attaccante. Rischioso. Vediamo. Iniziamo. Sì, beh, vedete che non è tanto il numero degli attaccanti quanto il gioco che si fa con gli attaccanti a pensione. L'Atalanta, Maxi Morales, diagonale sotto misura e Donnarumma risponde alla grande con una deviazione. Angolo Atalanta, protagonista il ragazzino. Una squadra ostica come l'Atalanta, che adesso usufruisce un calcio d'angolo dalla destra. Palla dentro, allontanata da Kuczka. Bellini, esterno sinistro sul fondo. Neanche un tiro in porta dopo 33 minuti di gioco. Neanche un tiro in porta dopo 33 minuti di gioco. Neanche un tiro in porta dopo 33 minuti di gioco. E allora? Non è bello. C'è l'Atalanta che sta dominando in questo momento San Siro, Tiziano. Sì, assolutamente sì. Maxi Morales.